Dimmi tutto. E' come tutto all'inizio? Tra il 1997 e il 1998, in due paesi dell'Emilia-Romagna, 16 bambini furono allontanati dalle loro famiglie e affidati ai servizi sociali della zona. L'accusa era delle più gravi. Un giro di pedofili che organizzava festini, violenze inaudite nei racconti di 12 bimbi. Mi manca tutta la mia vita. Eravamo vuoti, eravamo senza niente. Se uno guarda dall'alto, questa storia vede due schieramenti. Da un lato le famiglie coinvolte e dall'altra parte gli operatori dei servizi sociali, la magistratura, le psicologhe, anche le famiglie affidatari. Quanti bambini abusati da grandi continuano a vivere in quel dubbio? Ma i miei genitori mi avranno voluto bene veramente? E la risposta è no. Io, quando penso a mio padre, nel cuore penso che ci sia il diavolo. Ho creduto ai bambini che hanno raccontato queste cose. Ci sono stati dei dettagli che me li ricordo come me li avessi raccontati ieri. Perché la verità la negano a me e la negano ai miei figli. Ce n'è una di verità. Siamo abituati a pensare che con i nostri figli ci sia un legame che niente nessuno può distruggere. Ed è questo che fa paura di questa storia. Mette in discussione la solidità dei rapporti familiari.